Ciao, sono Luca Chiavegato, docente del Dipartimento di Comunicazione dello IUSVE, Istituto Universitario Saresiano Venezia. In questa lezione vedremo insieme alcune delle possibilità che ci vengono offerte da iPad per poter realizzare delle lezioni di didattica digitale e a distanza. In questo tutorial vediamo assieme quali sono le potenzialità offerte da uno strumento come iPad. iPad spesso viene visto come uno strumento di consumo di contenuti ma in realtà è uno strumento estremamente potente che ci consente di creare contenuti e anche ovviamente di fare un'attività di didattica a distanza solamente usando il tablet. iPad ovviamente può essere completato con degli elementi esterni come per esempio il mouse bluetooth, che nell'ultimo aggiornamento di IOS è compatibile e quindi possiamo collegare un mouse bluetooth con iPad e utilizzare il mouse come su un regolare computer. Possiamo ovviamente abbinare una tastiera bluetooth ma anche utilizzare per esempio l'Apple Pencil per poter scrivere e disegnare. Non per ultimo possiamo anche collegare al nostro connettore Lightning dei microfoni esterni USB, bisogna ovviamente verificare quale tra i microfoni in commercio è compatibile con il nostro iPad oppure utilizzare dei piccoli microfoni che si collegano direttamente con il connettore Lightning. L'iPad ovviamente può essere collegato anche al computer, in questo caso con un computer equipaggiato da macOS e posso utilizzare macOS e QuickTime Player in questo caso per registrare lo schermo dell'iPad direttamente sul computer. Nel caso in cui volessi però utilizzare solo l'iPad posso tranquillamente accedere alla registrazione dello schermo facendo un swipe down nella parte in alto a destra. Qui c'è questa piccola icona che è un bottone di record grazie al quale potrò avviare la registrazione dello schermo del nostro iPad e quindi collegando anche un microfono potrò registrare audio e video, fare la mia lezione e poi distribuirla con il sistema che riterò più opportuno. In questo caso il pulsante record non è attivo perché sto già registrando lo schermo dell'iPad collegato al computer con un altro tipo di software. Se il mio bottone non fosse attivo mi basterà attivarlo all'interno delle preferenze cliccando su centro di controllo e abilitando il controllo di registrazione schermo che vediamo qui in questa posizione. Una volta abilitato il controllo che mi interessa potrò spostarlo nella sezione che mi interessa e a questo punto lo ritroverò facendo il swipe down dall'angolo in alto a destra. Questa funzione risulta estremamente utile perché se a casa non ho un computer e voglio fare una video lezione con un qualsiasi strumento che vi farò vedere adesso posso registrare lo schermo e poi distribuire il mio video direttamente dall'iPad. Le applicazioni disponibili per l'attività didattica digitale sono veramente tante. Cercherò di fare un piccolo riassunto delle applicazioni principali e magari con il tempo potremo integrare con degli approfondimenti specifici su alcune di queste. Innanzitutto voglio partire da tutto l'universo delle Google Apps. Su iPad abbiamo l'opportunità di sfruttare completamente tutta la suite di Google Apps. Quindi abbiamo fogli, presentazioni e documenti, quindi Excel, PowerPoint e Word per capirci, che mi permettono di realizzare direttamente su iPad i contenuti e sincronizzarli automaticamente con il mio drive online fornito da ovviamente Google. Abbiamo l'accesso a Drive, abbiamo l'accesso anche alla video lezione in diretta attraverso Google Meet che in questo momento è stato fortemente modificato per accogliere le richieste dei docenti e quindi renderlo ancora più utile per le attività didattiche e poi ovviamente abbiamo la possibilità di configurare la nostra classe virtuale utilizzando Classroom. Classroom e Meet sono delle funzioni che in realtà sono disponibili a tutti gli utenti Gmail ma che trovano la loro collocazione naturale per coloro che utilizzano la G Suite, sia G Suite for Education e quindi la possibilità appunto di fare meeting, lezioni in presenza virtuale, in una classe virtuale con Google Meet, ma anche ovviamente la Classroom che è un ambiente all'interno del quale posso avere i nominativi dei miei studenti, posso caricare all'interno materiali e posso ovviamente condividere materiali con chi mi interessa. Un'altra applicazione particolarmente interessante che ci viene fornita da Google è Jamboard. Jamboard è un'applicazione grazie alla quale possiamo disegnare, scrivere, inserire oggetti come fossimo su una lavagna reale. Jamboard è anche una lavagna digitale fisica che si può connettere alla mia applicazione e quindi io posso disegnare qualcosa sul tablet e poi inviare alla lavagna quello che io ho realizzato. Jamboard è anche utilizzabile su desktop tramite il browser Chrome ma ovviamente su desktop offre delle funzionalità differenti sia dalla lavagna fisica che anche dall'applicazione che in questo momento andremo a utilizzare. Aperta l'applicazione, clicco sul più, lui crea la nostra lavagna vuota e sulla sinistra abbiamo una palette di strumenti molto semplici. Abbiamo gli strumenti di disegno con la possibilità di avere differenti tipologie di strumenti. Possiamo scegliere ovviamente il colore da abbinare a questo singolo particolare tipo di strumento e poi abbiamo gli strumenti di disegno assistito grazie ai quali potremmo disegnare, scrivere e inserire forme per esempio che verranno poi analizzate, interpretate dalla tecnologia di intelligenza artificiale e trasformate in un qualcosa ovviamente di più interessante, di fatto meglio rispetto a quello che potremmo fare noi a mano libera. Facciamo qualche esempio. Beh innanzitutto potrei utilizzare la mia lavagna nel modo classico e quindi per esempio potrei utilizzarla per disegnare con gli strumenti classici, quindi con i vari tipi di penne e pennarelli che hanno tipi di punte differenti, ma posso anche procedere all'utilizzo del disegno assistito. Procedo con l'eliminazione dell'intero frame e a questo punto procedo ad utilizzare i tre tool di disegno assistito che sono quelli più interessanti. Per esempio il primo mi consente di disegnare delle forme manolibere che automaticamente verranno trasformate nella forma geometrica più vicina. Quindi per esempio posso disegnare un quadrato e lui automaticamente lo va a trasformare nella forma che volevo disegnare. Oppure per esempio potrei disegnare un triangolo e automaticamente verrà trasformato anche lui. Ho la possibilità poi di duplicare ed eliminare la forma. Oltre a questa abbiamo il disegno assistito, per esempio potrei voler disegnare una mela, quindi procedo con un disegno a mano libera più o meno di una mela e automaticamente lui mi proporrà il disegno di una mela il più vicino possibile a quello che io ho scelto. Posso anche ovviamente scrivere e quindi posso disegnare un testo a mano libera, quindi facciamo un'ipotesi e lui automaticamente provvederà a trasformare il testo a mano libera in un testo vero e proprio che poi posso anche come gli altri oggetti collocare dove mi interessa. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare questa freccia per poter selezionare gli oggetti e spostarli, oppure nel caso avessimo tracciato un disegno con una penna o un pennarello posso selezionare una parte ed eliminarla. Ho la possibilità di utilizzare anche un puntatore laser, quindi posso utilizzarlo proprio come puntatore per indicare sulla mia lavagna qualcosa. Ho anche la possibilità di inserire per esempio delle note adesive che posso collocare all'interno della mia board. Ho la possibilità di inserire immagini che posso ricercare direttamente online e posso ovviamente collocare all'interno della mia lavagna e contenuti presenti da drive, fotografie che posso scattare in tempo reale, posso accedere alla mia libreria di immagini presente sull'iPad e ovviamente utilizzare anche gli adesivi. Una cosa molto interessante è legata anche al fatto che posso creare altre pagine semplicemente trascinando gli oggetti e quindi potrei prepararmi diverse lavagne e passare da una lavagna all'altra quando mi interessa. Nella parte alta possiamo anche vedere direttamente le lavagne che abbiamo creato, possiamo eventualmente eliminarle oppure possiamo applicare un particolare background su una o tutte le lavagne del caso. Posso anche direttamente da qui aggiungere ulteriori lavagne per poterle personalizzare. Molto interessante la possibilità poi di connettermi alla lavagna fisica e ovviamente quella di condividere il mio documento nei modi più disparati come link, come pdf, come immagine oppure per esempio condividere direttamente con delle persone la mia Jamboard. Se abbiniamo Jamboard a una registrazione dello schermo con magari il mio microfono posso fare una spiegazione tranquillamente utilizzando anche la penna e fare la stessa cosa che potrei fare con una lavagna, anzi meglio perché possiamo arricchirla di altre funzionalità. Su questo tipo di stile possiamo anche utilizzare altre due applicazioni che sono Liveboard e Miro. Assomigliano un pochino a Jamboard ma sono più ricche di funzionalità. Tra queste voglio mostrarvi Miro perché è sicuramente lo strumento più interessante come lavagna anche di tipo collaborativo. Entriamo con il nostro account o ci registriamo. Innanzitutto possiamo avere l'opportunità di utilizzare degli abbonamenti di diverso tipo e possiamo anche sfruttare un abbonamento gratuito che ha ovviamente delle limitazioni. Vi invito a visitare il loro sito per capire bene i vari piani che sono sempre ovviamente in divenire anche in base a offerte che vengono fatte di mese in mese. La cosa più interessante appunto è quella che possiamo partire da delle board predefinite con degli stili già particolari. In questo caso è una lavagna particolare che ha già dei tools già previsti quindi possiamo per esempio partire da un problema e quindi avere per esempio una base per la nostra mappa concettuale. La board è ricchissima di funzionalità sia di tipo di formatazione del testo ma soprattutto come possibilità di integrare dall'esterno elementi. perché abbiamo ovviamente come in Jamboard le sticky note le forme possiamo disegnare con vari strumenti possiamo mettere anche dei messaggi quindi abbinare per esempio un messaggio ad una particolare zona della mappa ma abbiamo anche la possibilità di caricare dal mio dispositivo oppure da un link o dai file salvati oppure da drive dei contenuti ma la cosa più interessante sono queste integrazioni. Quindi la possibilità di integrare altri strumenti all'interno della mia liveboard e quindi per esempio la possibilità di incollare all'interno della mia liveboard un frame con un codice html quindi un iframe. Quindi per esempio posso inserire all'interno di una liveboard di Miro per esempio un video di youtube, di vimeo presente in altre sorgenti tra cui anche slideshare per le slide ma ho anche la possibilità di inserire per esempio delle chart che vengono collocate nella mia board e quindi è estremamente ricca di funzionalità. Inoltre posso anche ovviamente navigarla e quindi posso spostare la mia board, ingrandirla, ridurla e la cosa ancora più interessante è tutta la parte di condivisione quindi l'opportunità di condividere con altri ovviamente la mia board oppure di avere un link da inviare agli altri per editarla ma posso anche in maniera molto semplice invitare altre persone che in tempo reale possono collaborare con me sulla board. Quindi per esempio in un ambito di didattica a distanza ho la possibilità di invitare i miei studenti, porre loro magari un quesito e insieme costruire quello che è un'attività, una lezione o cose di questo tipo. Ho anche ovviamente le varie note che posso applicare all'interno della mia board ed è sicuramente tra le liveboard che esistono la liveboard più, diciamo così, completa, ricca di funzionalità tra tutte quelle che esistono. Se invece vogliamo andare su un qualcosa di un po' più, diciamo così, completo di Jamboard ma più semplice possiamo utilizzare tranquillamente invece liveboard. Entrambi lavorano anche ovviamente su desktop tramite il browser. Passiamo oltre, abbiamo tutta la categoria delle mappe concettuali. Tra le varie applicazioni possiamo ricordare sicuramente Mindmeister che è sicuramente il più famoso e il più longevo tra le applicazioni di mappa concettuale che esistono. Molto semplice, abbiamo la possibilità di aggiungere i vari nodi alla nostra mappa concettuale scrivere all'interno, condividere la mappa abbiamo la possibilità di invitare altre persone che possono collaborare ho anche qui la possibilità di gestire la formattazione della mia mappa inserire stickers e cose di questo tipo posso inserire anche ovviamente file multimediali e quindi poter accedere, ovviamente in questo caso una funzione a pagamento poter accedere a un mio repository di contenuti e quindi per esempio allegare immagini alla mia mappa oltre a Mindmeister ne abbiamo una ancora più semplice che è Simple Mind Plus che in questo caso ci consente in maniera altrettanto veloce di poter aggiungere contenuti, quindi nodi all'interno del mio foglio poter formatare il contenuto di quel particolare nodo abbiamo la possibilità ovviamente di cambiare la parte estetica della nostra mappa ovviamente è un po' meno ricco di funzionalità rispetto a Mindmeister ma anche lui permette di fare le attività tipiche di una mappa concettuale quindi possiamo aprire o chiudere i vari nodi possiamo ovviamente aggiungere le note possiamo editare il contenuto dei singoli nodi in modo tale da poterli formattare come ci interessa un'altra categoria di strumenti che possiamo utilizzare all'interno di un'attività didattica è sicuramente tutto il mondo delle applicazioni che ci consentono di prendere appunti ce ne sono anche qui moltissime probabilmente la più famosa e blasonata è Notability ed è anche una delle prime che sono state utilizzate cosa mi permette di fare Notability? semplicemente creare delle note queste note possono avere diversi tipi di pagine possono avere anche una grafica applicata alla pagina posso inserire del testo che vado a scrivere con la tastiera posso disegnare, posso sottolineare utilizzando ovviamente il nostro evidenziatore cancellare, posso anche utilizzare il puntatore laser per ovviamente presentare dal vivo qualcosa e ho la possibilità anche di aggiungere delle note vocali ai miei appunti praticamente e questa nota ovviamente potrà essere collocata nei miei appunti oppure potrà essere eliminata molto interessante sarà anche l'opportunità di poter formattare le nostre note con un tipo differente di carta e ovviamente la possibilità di inserire all'interno della nostra nota o dei nostri appunti immagini, documenti, clip presidi dal web, memo eccetera eccetera ovviamente il tutto può essere esportato in diverse tipologie di repository esterni Roblox, Google Drive, OneDrive eccetera oppure può essere anche esportato in formato RTF includendo magari sia le note vocali che anche le immagini oltre a questo possiamo scegliere eventualmente anche il formato PDF che oltre a questi due componenti mi darà l'opportunità di scegliere il fondo della carta e anche il range di pagine questa probabilmente è una delle più famose applicazioni che ci consentono di prendere appunti sull'iPad per poi poterli condividere con l'insegnante oppure ovviamente con i compagni le note possono anche essere suddivise all'interno di categorie in modo tale da agevolare quella che è la fruizione del contenuto in maniera estremamente veloce come si può notare queste note possono essere anche formattate appunto con grassetti, punti elenco e tutto quello che è necessario avere in una nota appunto passiamo oltre vediamo un'altra categoria che è la categoria dedicata al meeting quindi oltre a Google Meet su iPad possiamo ovviamente utilizzare Zoom e quindi fare una videoconferenza condividendo documenti lo schermo e ovviamente anche utilizzando la webcam ma possiamo anche utilizzare semplicemente la registrazione dello schermo utilizzando Loom a differenza della registrazione dello schermo utilizzata da iPad Loom ha una particolare caratteristica che è quella di poter registrare automaticamente lo schermo del nostro iPad e questa registrazione verrà successivamente caricata in uno spazio online quindi qui abbiamo questa piccola guida che ci permette di capire come gestire la registrazione e ovviamente una volta che io procedo alla registrazione concludo la registrazione questa viene automaticamente caricata in un loro spazio online appunto sul sito di Loom a cui posso accedere nella versione gratuita ho un numero massimo di video che posso includere e da lì automaticamente posso condividere il mio video con chi voglio questo agevola estremamente il processo di creazione di contenuti registrando il proprio schermo e ci dà l'opportunità di registrare il tutto annotarlo con vari strumenti e successivamente condividerlo in maniera molto molto semplice altra categoria di strumenti che noi abbiamo a disposizione su iPad sono ovviamente gli strumenti che mi consentono anche di creare contenuti di tipo audio ovviamente anche questo è un campo ricco di funzioni di strumenti che io posso utilizzare qui citiamo alcuni esempi che sono per esempio Ferrite che è uno dei più interessanti editor audio che noi abbiamo a disposizione su iPad grazie a Ferrite possiamo registrare con l'audio con il microfono integrato di iPad oppure abbiamo la possibilità di utilizzare dei microfoni compatibili e registrare il nostro audio la cosa più importante però di Ferrite è che ci dà l'opportunità di anche editare e poi esportare un audio anche multitraccia anche nel caso di Ferrite abbiamo una versione free con alcune limitazioni e una versione pro che permette l'acquisto e lo sblocco di tutte le features pro quindi multitraccia con più tracce e ovviamente anche una serie di strumenti adatti alla post produzione dell'audio quando vogliamo distribuire il nostro audio possiamo usare diversi tipi di sistemi di distribuzione uno di questi può essere sicuramente Anchor che è di proprietà di Spotify Anchor ha una particolarità però non è solo un tool per distribuire podcast all'interno dei vari motori di indicizzazione dei podcast quindi Spotify, Google Podcast, iHeart Radio e ovviamente anche Apple Podcast e tanti altri ma abbiamo anche la possibilità di creare automaticamente il nostro podcast in maniera del tutto semplice e anche ricca di funzioni entro con il mio account e sul lato sinistro trovo tutte le funzionalità tipiche di un strumento di sezione podcast quindi posso registrare il mio audio dalla versione che hanno lanciato in questi giorni l'ultima versione c'è la possibilità di ricevere anche dei guest speaker quindi posso registrare l'audio con altre persone che sono nella mia cerchia degli amici oppure posso semplicemente registrare l'audio con il microfono integrato o eventualmente con il microfono USB collegato ho la possibilità di aggiungere della musica di sottofondo che loro mi danno gratuitamente posso tagliare il mio file audio in modo tale da completarlo e ho la possibilità anche di registrare appunto con gli amici e quindi posso condividere un link a cui invitare gli amici e poter registrare insieme ho anche la possibilità di raccogliere tutti i miei episodi e trascinando sul lato destro ho la possibilità di aggiungere i vari episodi all'interno della mia playlist e comporre il mio podcast ho la possibilità di inserire i messaggi vocali mettere degli intermezzi che posso collocare tra un episodio e l'altro oppure anche dei suoni a questo punto posso anche collegare la nostra libreria di Apple Music o di Spotify Premium inserire il brano che ovviamente sarà utilizzato come transizione e poi pubblicare automaticamente il mio podcast queste sono solo alcune delle applicazioni che noi possiamo utilizzare su iPad per fare delle attività didattiche a distanza che possono comprendere le liveboard piuttosto che ovviamente la registrazione di audio la registrazione di video e anche ovviamente tutto il mondo delle note tenete conto che oltre a queste abbiamo un universo enorme anche di applicazioni legate alla post-produzione video e immagini che magari approfondiremo nei prossimi video se hai commenti e domande ti invito a lasciarli all'interno dei commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video